Servizi di vigilanza rafforzati in tutta la provincia di Teramo in occasione delle festività di Ferragosto, in concomitanza con il massiccio afflusso di turisti nelle località balneari della costa, tanto quanto nei centri dell'entroterra montano. Su indicazione del prefetto di Teramo sono stati posti in atto servizi interforze ad opera della Questura, con il contributo delle specialità Polstrada, Polfer e Volo e del reparto prevenzione crimine della polizia e dai carabinieri con personale in divisa e in borghese, anche in orari serali e notturni, al fine di garantire sicurezza ai residenti e turisti, scorrevolezza del traffico e al fine di prevenire incidenti stradali, soprattutto quelli conseguenza di guida sotto effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata posta poi alla prevenzione di furti in abitazione, rapine in esercizi pubblici, commercio ambulante abusivo, vendita di merce contraffatta e contrasto della prostituzione. Dal 13 al 17 agosto in generale sono state 10 le persone denunciate ed una arrestata, un trentenne terramano per spaccio di sostanze stupefacenti colto in flagrante a Martinsicuro, un trentunenne segnalato per possesso di stupefacente per uso personale, 13 le patenti e carte di circolazione ritirate con un totale di 2267 persone identificate e 1910 automezzi controllati, tre i veicoli sequestrati. Nella notte tra il 16 e il 17 agosto il personale della squadra volante ha sventato un tentativo di rapina presso un distributore di carburanti in un'area di servizio della Terramo Mare, quattro persone travisate hanno cercato di forzare la porta del magazzino deposito ma alla vista degli agenti sono scappati nelle campagne limitrofe facendo perdere le loro tracce. Rilevante il contributo anche delle unità della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali dei centri più popolosi della provincia nell'ambito delle specifiche attività di competenza.